Benvenuti in Italmotor, benvenuti in via Stradella 82, via Cardinal Massaia numero 5, dove troverete vetture nuove, vetture aziendali, vetture chilometri zero e vetture d'occasione. In più, la possibilità di finanziare anche l'intera cifra, piccolissime le rate mensili, comprensive se vorrete anche di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici. Andiamo a scoprirle insieme. E cominciamo subito con Fiat Panda, parliamo di Panda 1.2, 69 cavalli, tutte climatizzate, tutte nuove a chilometri zero. Garanzia ufficiale della casa madre? Le porterete via, pensate, a soli 7.590 euro. Il risparmio dall'estino supera i 4.000 euro. Avete capito bene? 4.000 euro di sconto saranno vostre da soli 7.590 euro. Fiat Tipo Station Wagon 1.6 Multijet 120 cavalli, euro 6, solamente 12.000 i chilometri percorsi. Un'autovettura praticamente nuova, in garanzia ufficiale della casa madre, che sarà vostra a 11.800 euro. In questo caso il risparmio, pensate, supera i 10.000 euro dal listino. 11.800 euro, una business con navigatore satellitare, cerchi, lega, sensori parcheggio e climatizzatore. Lancia Ypsilon 1.269 cavalli con impianto GPL, quindi 5 anni di esenzione bollo, tutte climatizzate, tutte con bluetooth, saranno vostre nuove a chilometri zero, a partire da soli 129 euro al mese. 500X 1.6 110 cavalli, allestimento Urban con cerchi lega, con climatizzatore, con Uconnect da 7 pollici, sarà vostra a partire da soli 16.900 euro, compreso l'impianto GPL. Quindi anche in questo caso impianto GPL, 5 anni di esenzione bollo, nuova a chilometri zero, 16.900 euro. Solamente 149 euro al mese. Stiamo parlando di una 500X 1.269 cavalli, allestimento Lounge, nuova a chilometri zero. 1.6 euro, garanzia ufficiale della casa madre, avete capito bene, 149 euro al mese. Alfa Romeo Stelvio, un 2002 Multijet, 210 cavalli, allestimento Exclusive, l'allestimento più bello, dai cerchi lega da 19 pollici, all'interno in pelle, navigatore satellitare, telecamera posteriore, sensori parcheggio anteriore e posteriori, realmente un full, full optional, che sarà vostra a soli 32.800 euro. Dacia Sandero, immatricolato nel 2019, un 900 con 90 cavalli, sarà vostro a soli 10.900 euro. Una vettura che di listino supera i 18.000 euro, avete capito bene il prezzo, Italmotor, 10.900 euro. 500L, 1.4, 16 valvole, pensate, solamente 24.000 ai chilometri percorsi, la porterete via a 10.900 euro. Sion Tivoli, un 1.6 da 115 cavalli, con cerchi lega, con climatizzatore, con bluetooth, cruise control, sarà vostro a soli 11.900 euro. Jeep Renegade, 1.6, 110 cavalli, allestimento Longitude, solamente 20.000 chilometri, sarà vostro a 15.500 euro. E parliamo ancora di Jeep, parliamo di Compass, un 1.6 multijet, 120 cavalli, allestimento limited, dai cerchi lega da 18 pollici ai fari alloxeno, navigatore interno in pelle e tantissimi altri optional, sarà vostra, pensate, a soli 25.900 euro. Il risparmio dal listino supera gli 8.000 euro. Nissan Qashqai, un 1.5 DCI, da 110 cavalli, allestimento asenta, dai cerchi lega al climatizzatore, dal navigatore satellitare alla telecamera posteriore, il bluetooth, il cruise control, un mezzo full optional, immatricolato nel 2019, garanzia ufficiale della casa madre, pochissimi chilometri percorsi, pensate, solamente 6.000 chilometri, lo porterete via a 19.800 euro. 11.900 euro. Stiamo parlando di una Fiat Panda, 4 ruote motrici, un 4x4, trazione integrale, 1.3 multijet, 95 cavalli, euro 6, con pochissimi chilometri, 11.900 euro. Fiat Tipo 5 porte, 1.4, 16 valvole, 95 cavalli, allestimento business, dai cerchi lega al navigatore satellitare, climatizzatore, bluetooth, vetture aziendali che hanno percorso pochissimi chilometri, che saranno vostre a 10.900 euro. E torniamo a parlare di Fiat Panda, parliamo di Panda Lounge, l'allestimento più bello, dalle barre sul tetto alle fasce paracolpi, dal climatizzatore ai fendi nebbia, ai sensori parcheggio, al quinto posto è ruotino. In più, impianto GPL, con 5 anni di esenzione bollo. Tutto questo pensate a soli 9.900 euro, potrete scegliere il colore e soprattutto potrete scegliere come pagarla, sia con finanziamento oppure in contanti. Jeep Compass, 1.4, turbo, 140 cavalli, cerchi lega, climatizzatore, bluetooth, cruise control, a partire da soli 19.900 euro. 500 X, 1.0, turbo, 120 cavalli, chilometri zero, vetture a benzina, con la possibilità anche di essere trasformate a GPL, le porterete via a partire da soli 15.900 euro. 500 L, 1.3 multijet, 95 cavalli, euro 6, allestimento cross, l'allestimento più bello, dal navigatore ai cerchi specifici dei sensori parcheggio, a Luconnet da 7 pollici, sarà vostra a soli 14.900 euro. E in chiusura vorrei ricordarvi ancora una volta la straordinaria offerta su Fiat Panda, parliamo di Panda 1.2, climatizzate, nuove a chilometri zero, in garanzia ufficiale della casa madre, che porterete via, pensate a partire da soli, 99 euro al mese. Tutto questo dove in via Stradella 82, via Cardinal Massaia numero 5, vi aspettiamo da lunedì al sabato. Ciao!